Sì, è proprio vero, io per il territorio sul Roma ricordo molto bene quando l'associazione Nonna Roma, Circolos Parvas di Via del Pigneto, di fronte alla cacciata di una famiglia rom che aveva avuto la Casa Popolare, furono loro a convocare una manifestazione a Torsapienza alla quale poi sono e siamo andati tutti, anche il Partito Democratico, anche tutte le formazioni politiche di sinistra, ma è un piccolo, se vogliamo, episodio che però ti dice che cosa significhi la presenza nel territorio di un'associazione che poi ha come base quello di Nonna Roma e la raccolta alimentare. Io intanto volevo dire che ci sono molti esponenti importanti in questa sala, Enrico Menduni, presidente dell'Arci del 79 e dell'83, Osvaldo Veneziano, Arci Caccia e mi permetto di ricordare in questo contesto Carlo Ferramariello che era dell'Arci Caccia, quello che mi è capitato di conoscere, Paolo Beni, Gian Piero Rasimelli e insomma poi forse avrò dimenticato qualcuno e me lo suggerirete. Intanto vorrei dare la parola a Cristiana Pipitone che è appunto responsabile della Fondazione per l'Archivio. Mi hanno fatto parlare da qua perché evidentemente io sono quella che vi annoierà più a lungo perché ho l'intervento in cui vi devo raccontare un po' cos'è questo archivio e qual è l'idea, quali sono le nostre idee e quello che noi vogliamo fare. Intanto io volevo cominciare a ringraziare l'Arci e la sua dirigenza per aver deciso di affidarci il loro archivio storico. Noi siamo lietissimi di ospitare un archivio così importante che è un archivio che riguarda non soltanto un partito politico su cui noi siamo abbastanza esperti e ne possediamo ma un'associazione e un associazionismo ovviamente di sinistra per cosa non potrebbe essere diversamente data la vocazione della Fondazione e che però ci dà anche l'agio, il modo di studiare e di offrire fonti per quella che è la società civile organizzata nel ventesimo e nel ventunesimo secolo, cioè a ridosso appunto della cosa. Siamo contenti anche perché l'Archivio dell'Arci ha ovviamente dei nisti molto forti con dei complessi documentari che noi già possediamo. Io ne ricordo solo un paio per motivi anche profondamente diversi. Da una parte ovviamente l'Archivio del PC e non solo per i legami indubbi di codipendenza se vogliamo fra i due organismi che probabilmente sono meno diretti di quello che si possa immaginare in realtà, anche se poi faremo vedere un documentino di suo padre. Ma soprattutto per la contiguità dell'azione dei due organismi che su piani diversi hanno però agito su temi, territori, cose sostanzialmente, su una vasta serie di argomenti e temi. Da una parte c'è la base che è stata comune, contigua, in gran parte, con quei... No? Non completamente. Bene. No, ma... Se no non sarebbe la stessa cosa, certo, è fatto. Ovvio. Dateci il tempo di capire veramente... Però c'è una, come dire, una vicinanza sul territorio. E dall'altra anche tutta una serie di campagne. Yolanda ha ricordato il terremoto dell'Irpinia. Mi viene in mente però anche cose che ho trovato, che ho visionato, a seguire del golpe di Pinochet in Cile, del 73. O anche le campagne, insomma, tutta una serie di campagne e temi che sono comunque parte di entrambi gli organizzatori. E poi c'è la vocazione pacifista, ambientalista e di difesa anche dei diritti all'ampio raggio, che a un certo punto si divarica, questo è vero, e diventa un patrimonio principalmente dell'Arce, a cui io mi sento ovviamente molto vicina. L'altro fondo invece è quello di Luigi Martini, ovviamente, che dell'Arce appunto è stato anche dirigente, oltre che storico. E anzi, nel suo libro ha il primo ad aver, come dire, messo in evidenza la ricchezza di una parte dell'archivio che ancora non era ordinato e che noi ordineremo e che oggi abbiamo parzialmente qui, sostanzialmente. E poi perché le carte di Luigi, che Luigi ci ha già versato, sono una grossa integrazione, fra virgolette, a quello che è l'archivio dell'Arci, visto che la sua raccolta, soprattutto di materiale grafico, insomma, manifesti, volantini, cartoline, adesive e quant'altro, che io sappia da quello che mi diceva Carlo. Insomma, vabbè, comunque sappiamo già che c'è parecchio materiale appunto che potrà essere di integrazione. Per quel che riguarda l'archivio, ora vi darò alcuni noiosissimi dati fisici. Sono in totale 103 scatoloni. Abbiamo calcolato che occuperanno circa 250 metri lineari di spazio e le acquisizioni sono state fatte in due tranche. La prima era quella che avevate mandato a Bologna, presso la sede regionale dell'UISP, in scatolata per essere conservata, che è arrivata appunto a novembre. E questa è una parte di archivio che è grossolanamente, insomma, abbiamo visto che c'è una sorta di ordinamento diviso cronologicamente, per ogni anno poi ci sono tutta una serie, ma Agostino poi vi illustrerà qualcosa di più. E contiene, e sono i documenti che Luigi ha già citato nel suo volume, insomma. E ci sono documenti preziosissimi, anche e soprattutto che riguardano la nascita della fondazione dell'Arci. La seconda parte è quella che vi ho preso io, con Carlo, e sono 86 scatole, che contengono 235 faldoni. E la documentazione noi abbiamo deciso di, avete deciso di darci, fino al 2004, in realtà qualcosa va oltre. Però l'abbiamo presa, insomma... Abbiamo concordato. Sì, 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 sì. Soprattutto ci siamo invitati, perché se no a noi rimanevamo la prima. E questa è una parte, insomma, interessantissima. Da quello che abbiamo potuto vedere ci sono carte congressuali, ovviamente carte relative ai congressi, carte relative agli atti degli organismi di garanzia, atti e carteggio relativo a campagne o alle associazioni nate dall'Arci. Mi vengono in mente, insomma, almeno sette faldoni dell'Arci Donna, faldoni relativi a Libera, ma anche un cospicuo numero di documentazione relativa alla festa della musica, ad esempio. E altre, che non è proprio la festa della musica, ma da quello che ho visto, è sempre comunque legato all'attività di produzione e fruizione musicale a livello di cultura popolare, come diceva prima Valter. Non mancano ovviamente i documenti sui social forum, sui rapporti internazionali, ad esempio le campagne sul Salahue, una cosa che a me ha suscitato grande emozione è rivedere un faldone relativo a Salam Ragazzi per l'Olivo, che è stata una campagna che mi ricordo quando ero ancora una ragazzina alla fine degli anni Ottanta. E questo è più o meno la questione. Che dire rispetto al lavoro che intendiamo fare? È già stata citata la Commissione, quindi non ripeto cose che sono state già dette. Come lavoreremo? Noi lavoreremo come lavoriamo sempre in archivio. Quindi cominceremo con una prima rapida mappa dell'intero fondo e poi richiederemo la dichiarazione di notevole interesse storico alla sovrintendenza per i archivisti e bibliotecici per il laccio. I successivi interventi verranno comunque concordati ai sensi di legge proprio, nel senso siamo obbligati a farlo con la sovrintendenza. Generalmente bisogna dire che noi ci limitiamo a comunicare e loro non dicono niente. Poi c'è la consiglia. Il migliore dei rapporti. Sì, no, abbiamo dei migliori dei rapporti con la sovrintendenza. Il lavoro lo faremo utilizzando il nostro sistema che si chiama Xdance e che è una piattaforma open source di gestione documentale che è interamente sviluppata sul web e corrisponde a tutti gli standard attuali. Mi fermo perché capisco che mi interessa il giusto. e la descrizione noi pensiamo di farla a livello di unità archivistica. Con alcune... scenderemo forse a livello di singolo documento per alcune carte e questa però è una cosa che valuteremo insieme alla commissione nel corso del tempo. Io penso che alcune serie grafico se vogliamo dei verbali, se decidete se anche voi decidete che volete renderlo pubblico ovviamente nel corso dei lavori provvederemo se serve a ricondizionare a tutte le operazioni di tutela delle carte e preparazione per la conservazione permanente. E prevediamo inoltre anche di digitalizzare anche se al momento è assolutamente prematuro presentare un vero e proprio piano di digitalizzazione dell'archivio. Dobbiamo ancora aprirlo, dobbiamo ancora vederlo, dobbiamo ancora inventariarlo, dobbiamo ancora prendere una serie di decisioni e questa comunque è una decisione che va rappresenta insieme alla commissione. Insomma, proprio tipicamente una commissione. Io a questo punto faccio una notazione un po' tecnica che nasce anche da discussioni che abbiamo fatto con i colleghi che stanno tutti dietro. da un punto di vista della nostra professione di archivisti la descrizione di un archivio, l'ordinamento, l'individuazione delle partizioni e delle serie è una parte molto divertente, molto interessante e che però è legata alla struttura dell'ente e la struttura dell'Arci, la sua storia, la sua complessità, penso che sarà una sfida enorme perché non è per niente semplice allineare, è molto diversa anche da quella di altri archivi, diciamo, del settore politico privato con cui ho avuto a che fare con tutto. E però è una sfida che ci sentiamo, siamo molto lieti di accettare sostanzialmente. L'ultimo punto riguarda le attività di pubblicazione e valorizzazione. Ovviamente verranno valutate anche queste insieme alla Commissione. Sicuramente noi pubblicheremo l'inventario nel nostro spazio che è la guida agli archivi della Fondazione Gramsci e poi ne daremo notizia anche nei sistemi assolutamente istituzionali come sono il SAN e il CIUSA che sono, diciamo, gli SBN del mondo degli archivi italiani. Ma la nostra idea è comunque creare un'uscita web sul nostro sito, un nuovo sito che è in preparazione che quindi ancora non c'è, non guardatelo adesso. O in collaborazione con l'Arci, anche sul sito dell'Arci, che sia al tempo stesso disponibile e utile all'utenza specializzata, agli studiosi, agli attivisti e anche ai semplici navigatori casuali, che sia quindi inclusivo, fruibile, capace di attrarre le giovani generazioni e che potrebbe essere anche un nuovo format per la presentazione degli archivi della Fondazione. Io finisco qui, non vi ammordo più. Grazie. 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 Grazie.